E' stato ritrovato il signor Giuseppe, 79enne, scomparso dalla sua abitazione di Chietiscalo dopo due giorni di ricerche in una campagna nei pressi del maneggio ad avvisare le forze dell'ordine. Un agricoltore attirato dal claxon della lancia Ypsilon a bordo della quale si trovava Giuseppe, claxon suonato proprio per chiedere aiuto, come riferisce alla redazione del Tg8, il figlio del 79enne. Per lui un sospiro di sollievo. Dopo il ritrovamento della signora Milena scomparsa per giorni e ritrovata anche ella sana e salva. Ma quanti sono i casi nella nostra regione di uomini e donne di cui si sono perse le tracce? In soccorso ci viene Alessia Natali, presidente dell'Associazione Penelope. Sì, diciamo che gli ultimi dieci giorni per noi sono stati veramente tanto intensi. Da prima per la scomparsa della signora Milena e ad oggi con il signor Giuseppe Dachieti siamo stati coinvolti e travolti da eventi abbastanza complessi. Ma qual è la situazione attuale delle persone scomparse in Abruzzo? Allora per quello che ci comunica semestralmente il commissario straordinario del governo con la quale noi associazione abbiamo un protocollo di intesa. La situazione in Abruzzo è abbastanza inquietante perché dal 74 ad oggi al 31 di dicembre in realtà, non ad oggi, al 31 dicembre del 2023 gli scomparsi in Abruzzo risultano essere 1111 persone mai ritrovate. Ma cosa porta una persona a scomparire? Allora io innanzitutto vorrei chiarire la questione dell'allontanamento volontario perché è vero che ci sono casi di allontanamento volontario come è stato dichiarato con la penultima scomparsa che noi abbiamo seguito, ma i numeri sono veramente molto molto bassi. La scomparsa di una persona può dipendere da diversi fattori come ad esempio problematiche neurodegenerative, quindi parliamo degli over 60-65, oppure minorenni che per una questione di anche bullismo perché poi le scomparse sono legate anche al bullismo, sono tanti i fattori. I minori non accompagnati, quindi i minori contesi tra genitori italiani e di nazionalità estera vengono rapiti e portati poi altrove, fuori dall'Italia, come esiste purtroppo il traffico degli organi. Proprio perché sono minimi i numeri degli allontanamenti volontari, noi vogliamo che questa dicitura dalla denuncia di scomparsa venga eliminata totalmente, quantomeno venga scritto allontanamento per cause e motivi ignoti. Nel solo 2023 prosegue la Presidente dell'Associazione Penelope, 602 le denunce in Abruzzo, delle quali 437 riguardano stranieri. Al momento da ritrovare di queste 602 denunce di scomparsa sono oltre 300, quindi una percentuale circa del 50% viene ritrovata, agli altri purtroppo poi non si sa più nulla. Chi si rivolge a voi? Le famiglie che purtroppo vivono questo dramma ed è un dramma che non riguarda soltanto poi la famiglia coinvolta perché la scomparsa può colpire chiunque. D'altronde voi siete tutti volontari? Assolutamente sì, noi nella vita privata abbiamo altri lavori, questo per noi è una scelta, io personalmente l'ho fatta perché ho scelto di diventare volontaria perché sono figlia di una persona scomparsa, quindi in prima persona ci sono passata e so che cosa significa. Noi domenica 12 maggio saranno nove anni di Costituzione di Penelope Abruzzo, di questi nove anni io sono da cinque anni il Presidente, quindi insomma so benissimo come funzionano certe dinamiche e certi iter. Grazie. 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 Grazie a tutti.